ma io mi metto lo sapete perché gioco di giada perché così la gente la tengo lontana c'è mi basta dare un colpo alla persona io uso l'erone tanto l'erone è scelto anche da usate due eroni voi e io mi butto col pietà io uso il coso la cecchina da la facciamo qua all'inizio mi metto full velocità certo certo mi metto full velocità io vado al minuto che è sempre davanti di titani impossibili da superare davanti di schiazze davvero ok stanno sotto sono andati sotto no 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 via aspettami pure aspettami entrato qualche rai ma l'ho ferito quello sopra watch out quello sopra venite Ho preso Oh mio dio Gli ho fatto assist ma non puoi capire come Mamma mia Ma non sento la mia Mi ha lisciato Ma tu non immagini quello che ho fatto io Non ne hai proprio idea Ho girato tutta la visuale di scatto BAM e l'ho colpito di colpo Recon schiacciati sulla parete Schiacciati sulla parete Ma tanto pareccio Pagli di tani col casco del raid E' un'aggrazzata Ok oh oh stanno dietro Stanno dietro Stanno dietro Regà vado in visita Oh wow mi ha visto Aspetta rimani da solo a destra Non ti far ammazzare Recon attento Dai via se vuoi Perché devo andare via Ci sono due qui C'è il casco ha buggato Aveva il mantello ha buggato Mi sono suicidato con la gara Sono stati eliminati Concentrazione No ho messo la mina Stavano da più a speccali e mi è esplodata la mina Ma ora mi è gioia e miseria non ce l'angelo più Sti qua perché hanno capito magari Sì andiamo tutti insieme da sinistra Andiamo tutti assieme No a destra A destra nel passaggio Non ci facciamo vedere Non ci facciamo vedere No mi faccio vedere No mi faccio vedere Vi apri No hanno cambiato proprio Stanno dietro Uno sopra Uno davanti a me Uno sopra Uno sopra Uno sopra Oh wow Sono morti C'è uno sopra Ok Easy b Madonna Ma è così facile Ma non mi avete fatto come un po' No 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 che sfiga Ci hanno aperto Uno Una squadra c'ha aperto Basta che del passaggio Basta che del passaggio Eh cosa si decidera Basta del passaggio Beh erano forti Sti si ci hanno devastato C'hanno proprio Sai che ci hanno fatto Proprio 5 a 1 Che c'hanno aperti Nessuna assiniera Sopra Con le munizioni Vieni a prendere se vuoi Vieni 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 c'è un po' Vieni c'è un'invisibile Presa Non c'è più Io non ho Sarà accucciato Aspettate Non è proprio accucciato Lui Si si è accucciato Sono andate sulle luci Di qualcuno Regali facciamo Reanimare Così ci facciamo Più Tanto c'è Lancia razzi C'è seriani Ma cosa fa Vabbè io mi prendo Speciali C'è quanta bici speciali Si stanno a farla super Ecco perché Io sto controllando In base nostra Io sto giocando Con velocità massima Che frocio Era fermo lo spawner No dai Fk No stava mirando Mirano che c'è la verità Bravo lui Contento lui Così lo uso Quello è vero Però sto giocando Per schivare Eccolo pushano Chi l'ha tirato il martello Oddio Madonna Mi ha fatto prendere Un panico Madonna Ah no Come assist Eh vabbè Chi si win Facciamo questi hanno veramente Rinunciato così Non mi congratulo manco Perché Tanto Ma fate Fate 3-9-0 Di fila Sì Probabile Sì Probabile Vediamo Ah ma poi io c'ho il perk Che mi aumenta l'armatura Con delle cose da vuoto Quando usano la sottoclasse da vuoto Quindi sto da paura O le troppe Cazzo Emano a fatti Emano a fatti Io una pezzera Oh Quanto fa Quando la pira Ah 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 beh Ovviamente Mantello di osile Del cacciatore Fa ancora più schifo Di quello che l'ammeno Davvero Sì è tutto D'oro Sì è faschi Sembra che ti facciano Spagazzato sopra i piccioni No È proprio brutto 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 Comunque raga Ho scoperto che c'è Grazie Un oratore che vende forza del branco Il mantello quello figo Qual è quello figo Qual è scusa Quello che c'ha Quello bianco che c'ha dietro Il lumo Ah va bene Cagata È una stessa È fighissima Ragazzi Ma che gara Ma la c'è Ma ancora che c'era La cosa Che escono Eh La challenge Mondo quando Che escono Non lo so Il cato Vorrei capire Cosa daranno Queste challenge Probabilmente Cosa a 3.30 Perché nell'armeria Che sono Uno dai Lo step power Che c'è la connessione Di Gesù Certo Non posso Però sta anche Streamando Non so Beh Dai No raga ho appena scoperto Che se vuoi Isterminare una persona Velocemente Rimetti triangolo No dai che non lo sapevi Vi ho trovato Di Witch Stalkers In the whole play Oh my god Pompare il tocco del male Questo è Cagliere Questo è Cagliere 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 Sarà nello spot Dei cecchi Prova Ci ne sarà Solo C'è una stregone Con bomba nuova Ciao Con radianza Fa 360 Bomba nuova 360 Grossi map Nuova bomba Io sto a 3.0 Vuoi 3.0 Dove Mi farò 3.0 Anche E anche Io sto 3.0 No dai Cagliere Senti Mi sa Che la Cecchina Conviene Che la Ma fai te Che sei Troppo Più Veloce Noi corriamo Al centro E proviamo A stopparlo Fai fuori La squadra Avversaria Sotto Tre stregoni C'è Una più Un'altra Bravo Bravo Complimenti Complimenti Morto Eh vabbè Complimenti Bravi Bravi Ci sono Stati Eliminati Ah Regà Abbiamo Fatto Con una Velocità Impressionante Ha pure Prodo Attirarmi La cecchina Dall'ho Challengiata Colcone Odeggiata Proprio Sì ma Qui hai dato Due gol Ultimo Ho visto Ho visto Saluta Questa Mi sa che Stano Ragazzi Quei No vai Bravo Uno Quei Ma Power Io con la 30 Mega Oh ma Non è No no Questa L'hai rubata Io ho dato Quattro colpi in testa Alla Gara Non hai capito Tu hai sparato Dopo che io ho sparato Quattro colpi in testa E noi Lo sto Lo so Questa è la 30 Mega Che schifo 30 Mega Vodafone P10 Vuoi dire che non c'ho le notifiche Flippa Senti io vado al centro con lui Rimani in vita a te Giocatela safe Giocatela safe Sono amico Sta passando Sta passando Ma guarda dove è Ti ho fatto il boy One shot No è di tra l'albero Perché di tra l'albero C'è tipo le cose che lo fanno usare A abbassare Che schifo Viene anima Attento Attento Scappa Devo restarlo Devo restarlo De anima No mi sconsorta Eh Mi trova Speranza Mi deve animare Mi deve animare Ti c'è lega C'è lei sotto Alla loro tetto Allora ho tetto Devi dire Non tetto Sì Voglio vedere che fanno C'è uno sulle mie luce A destra Lì Pusciolo 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 Pusciamolo Pusciolo Questo sfigato È davanti a me È davanti a me One shot Ti prego C'è me C'è me Mezzo In mezzo Mappa Presta Mi resta 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 Ma te l'ho detto Mezzo mappa Cazzo Ho fatto Ho fatto Stavo a fare I pezzi Allucinanti C'era Ragazzi Sono messi In tre Con il cecchino Si sono messi In tre Con il cecchino Sopra Ho fatto Ho fatto Uno dai One shot Valla uccider Tiragli la granata Ce ne sono due Ho veduto una sega Uno l'ho preso L'altro dentro Preso Un attack of malice In fondo mappa Dai Ma che basta Assisterò Vai C'è l'ama del cecchino Comunque Ti conviene aspettarli Non challengerli Perché appena gli vedi Un Tipo un pezzettino Del corpo Tu prendi e spari E gli fai comunque danno E gli lasciai One shot Dove è dr Vado a sinistra Vado a sinistra Vado a ottenerli tanto Mi sa che vengono a sinistra Allora Si vengo pure io C'ho la super io Bravo Ecco le munizioni pesanti Eccolo Sta andando sulle pesanti Elast One shot Preso Eh se ti cogli Vai via Rego indietro One shot Qua davanti a me Cosa Bomba nuova Ah ecco Tutto difende da te Prima raga Lui con i guardazioni Che mi ha shottato Non vorrei Mi ha dato un colpo E mi ha shottato Sì Lui mi ha coltato Ma mi ha dato il danno Invece Stavo usando un boom Comunque la capriola È troppo figa da usare Cioè prima Hai visto come stavo In mezzo È anche forco Che mi mettele qui Sì Punto decisivo Finisci lì Però dovevano la mettere pareta Sì One shot Sono tutti sopra No 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 Vai vai rego Cele tutti davanti Preso uno L'ultimo Entrato dentro È qua Serio Ma chi foda Attenzione che si potrebbero restare È restato I nemici sono stati eliminati Un'altra battaglia 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 Io non ho trovato Una mamma Di garma Dunque l'arma Shot Il cazzo Divellatore Con i nemici È troppo bello Se sei preciso Che è? Ho sentito tipo Una cucina Di qualcuno Che parlava No? Boh Non lo so Sentito tipo una cucina Bello Big drop Vi neanche troppo Della serie Che ha droppato Il rivellatore Con fortuna Nella camera E' un fuoco Non ne portate Ragazzi Troppato Ragazzi Troppato La testa La dosirida La serie Si Della serie Ora Ma fa schifo Che mi ha messo La spia Del giovane Un caro Madonna Anche io Ho trovato La stella di mare Della serie Ora Con mano celata E Diciamo anche I danni Elementali Cioè Io c'ho troppi Io c'ho troppi oggetti Nell'inventare Poteva tropparmi Gli impulsi Di voglia Comunque Di voglia Di voglia Dove 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 Ma Cosa Ci faccio La Pistolina Esatto Niente Perché Non la Userò Mai Dipendo A me La Pistolina Mi piace Giocare In Tanto Io Troppo Anche A 3 7 Anch'io 3 7 Illuminati Con Vittoria c'è troppa Di condizioni Che ricordi Io quello Non ce l'hai Di condizione Dosiride Tipo Mi sono fatto Proprio Il set Dosiride Mi sono messo L'emblema Dosiride O guarda Che emblema Che cazzo Gioi a fare Tutti con Supercell Il cervo Funziona Anche Quando Si ride A babbo Gli stivali L'avete Provato Gli stivali Quelli Del coso Se funzionano Quali Stivali Del Del culto Se ti dà Il buff Quali Buff Quello Della corsa Velocità D'arma I movimenti Aumentati Dopo Il rientro Quello Dello Standard Sì Dello Standard Scusa Non è che Funziona Provo Ce l'ho Io Così magari Mi puoi superare Per andare A Ci Allora Rega Coniglio Di Giada Tormento Di Tristan Quindi Questi Fanno Un Botto Di Mazzano Come Ma No Non Ce l'ho Il Buff Solo Quando Rientri Rega Ti do Una Mada A Fala Cecchinata Io Facciamoli Spottare Loro Vai Via Ti resto Spottala Quando Dove Merda Oh Mio Dio Jump Shot Ragazzi Pusciamoli Pusciamoli Ragazzi Avvelenato Siamo Siamo Un Un Squadra Avversaria Eliminata Ragazzi non riesco a usarlo il salto più alto non vengono non vengono stanno sotto stanno sotto stanno sotto su tutti i feriti vanno a destra no no vanno a destra lega lega a destra sono tutti ma non siete venuti ho detto a destra vai l'altro l'altro tritalote vabbè hai sentito che rumori hai sentito i rumori è l'erone è l'erone mamma mia let's go baby non pusheranno mai non si è in challenge no non riusciranno mai secondo me no non verranno mai là ti pare dopo la batosta che hanno preso incredibile io io la macchina qua dove stanno stanno sopra fermo 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 mamma mia ci sta il veleno l'ho toccato l'ho toccato ok sei senza salire o no da dietro ragazzi dietro da dietro eh vabbè ma perché tipo non ho vi ah non ho lasciato la partita devi stare attento al veleno a queste cose ti ho tirato la gradanta davanti per non farti per non farti ferire mamma mia che cosa siamo vabbè io vado sempre fuori tanto ho fatto sto rego non le do tanto il pagamento di me sarei con pure che si può fare congratulazioni guardia bello freccia della regina ho droppato bello ora dovresti droppare qualche pezzo di armatura ora devi droppare stivali contate stavo di una cosa rego mi sono scordato conta che raccom puoi anche fare ha detto no ecco che tu pushi col titano là sopra in modo che ti fai sparare e io cecchino oh il mantellino 308 che merda il mantellino che bene ho fatto con i cecchini mantello da luce subire capito capito re cosa è che devo fare io è presente là sopra tu sei più veloce di me tu pushi in modo che così la gente ti vede a te si in panica e io cecchino si che io sono più letto ma io cecchino i primi tutti quelli che sono sopra e poi pusho lui va sopra tu passi nell'arco che c'è lì eh no 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 tu corri proprio dritto sulla pedana saltando cercando di schivare i colpi perché la gente così gli prende un colpo dato che sei troppo veloce e prova a spararti puoi togliere un attimo il matchmaking puoi togliere un attimo il matchmaking per favore che devi fa? è perché mi sto facendo connessione stessa ok no mi sto facendo connessione stessa per i testi vabbè non me lo fa acquittare non mi fa acquittare dal matchmaking ok ok perché stava a fare quella cosa aspettate ma sono le stesse cose di scelta di una forza no mi sto facendo connessione stessa per i testi no mi sto facendo connessione stessa per i testi comunque fai conto che avevano trovato un gruppo prima che ha acquittato soltanto perché eravamo le serate cioè no 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 si giuri ho detto ma perché? non c'è un'assenza almeno gioca c'è almeno la dignità di perdere giocando almeno si quella è vera che c'hai tu che sei 3 e 13 mi fa vedere l'arma che è droppato? la pistola ma non è quella di osiride no? oh quella di osiride si si oh che figa ma no ma identica no non è identica no non è identica no non è identica no non è identica minchia quella è un calcio fatto a mano no no tanto si è contro l'antese ancora su contro F2 di Cerle eh quella è forte quella è forte quello prima si è aperto no non c'è F2 di Cerle il cazzo di Cerle non c'è quella è forte prima quello lì si è aperto è una bestia quel cieco quello no 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 sono più una bestia i suoi compagni di squadra che lui ma regà ma non è che forse voi pushavate un po' troppo troppo no 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 noi stavamo niente noi ci allengiamo col cieco però non potevo fare niente eh vedi li challengeavate però mi scorricevo che era morto e cioè cosa vuoi fare questo gotalio nel qua da un'ora e mezza e voi siete già 5 vittorie che pippa vabbè ma gotalio non so se sai che una pippa è tutto il rispetto del mondo no 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 gotalio non regà ma guarda che cioè il cieco va bene usarlo ma a volte conviene usare la primaria che fa danno da lontano eh lo so lo so però la giocata che è fatta succedere nella mappa della giugola no ieri quella è in acqua me l'hanno detto tutti sì madonna mia me l'hanno detto tutti quella giocata perché perché i croni l'hanno stoppati e li hanno fatti raffare prove no regà super mega ma che era la giocona ho già visto oh fai quella cosa pusha dritto pusha sulla pedana pusha sulla pedana velocissimo un treno devi essere un treno un treno un treno un treno vai 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 merda no devi essere veloce un treno è sotto merda è sotto sono morto sono morto non è vero non sei morto no merda 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 vabbè non chi dà la testa nessuno sarà meglio devi essere non ti devi fermare devi correre diritto come un treno ma tu vuoi proprio che pusci proprio sì sì perché così la gente simpatica senza sparare senza sparare tu corri e basta cioè proprio corri corri come se non ci fossero domani se vuoi gli spari dopo quando hai fatto un po' di passi vai corri 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 un treno devi essere un treno preso visto però perché la gente si impanica giuro che se lo vedessi te darei una mano volentieri a sinistra ok si è animato e fatti tutti i nemici ma a questo punto metto il pompa no ma che non serve il pompa la cosa bella è che tu arrivando così la gente la prendi di sorpresa perché arrivo dopo di te cioè gli prende un infarto ogni volta cioè sposta la mira da power e power è il tempo di check in alle sensate qua non vengono più sono mido sono tutti mido mido vai via vai via oh mio dio l'altro 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 è in fondo l'altro è in fondo preso l'altro assist 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 che merda il re del body shot è arrivato squadra avversaria eliminata che corre dai a me l'ha fatto quick guardato dopo sì se ho tempo sì dead sicuramente rifamo eh così ti puoi andare diretto sulle pesanti ora ma è quello che faccio ogni turno non sono qua ora non sono qua sono a sinistra punizioni pesanti disponibili uno l'ho preso c'è un altro è one shot ti pusha preso l'altro è sulle pesanti vabbè morti useless tutti i nemici sono stati eliminati useless però ma siamo mai morti? mi sa di no regà facciamola senza morire si 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 siamo morti no come si è morti qualcuno è morto non so chi facciamo il ball finisci lì io non sono morto non ti so no fermo 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 sono tutti sopra mondo andiamo a sinistra prego tiragli da granata tiragli da granata lo stanno busciando lo stanno busciando stanno busciando da te io sono tirato l'arco vai sono bloccati sono morti sono crashato non ci credo sono crashato no devi ammazzarlo ce l'ho dietro oh perchè io sono crashato oh yeah bitch abbiamo vinto abbiamo vinto io sono crashato mi ha droppato un ombre nel 709 congratulazioni guardiani ottimo lavoro perchè sto crashando voglio capire c'è 30 mega ma stai vivo i fai si vabbè però è attaccato il ca è di là e non posso portare un po' no lo so lo so ma se una persona passa o cose del genere è normale vai in orbita si che palla però adesso non c'è la vittoria lui che ce l'ha confitto soprattutto no mica ci dava sconfitta no ci dava vittoria ah lui perchè mi dava sconfitta io c'ho la vita o si chiederanno uno o se la vittoria e crashati diventa la sconfitta di me se mi facesse mi sa che devo riavviare l'applicazione ho droppato una merda raga vado a vedere cosa succede al modem perchè non c'è tanto avvio l'applicazione dentro da voi ho droppato l'ombre nel x con momento zen calcio fatto a mano e guerriglia però guerriglia non so come funziona se funziona qua soprattutto è un brannelle sarebbe il cecchino no no è il vabbè non so come dirtelo è il ricognizione peccato potremmo fare bulletproof non ce l'ha dato vero? antiproiettile? ah ah non ho niente non ci ho fatto caso si mi dava sconfitta che ti rompe il stemmione madonna ma sei imprimito vabbè aspetta aspetta oi grazie Lenzo allora e allora stai si muove che sta entrando e io sono un'amante di ricognizione un'amante raga lo sentite? cosa? hola clan dunclan cosa avrà con? il gatto no e ora lo metto vicino comunque non so se usare la granata a muro mai c'è quello che fa sbandire i miei miei alleari ma no mi metto intossicamento no non me l'ha contata perfetto non te l'ha contato? giuro che ti erano una bestemmia non te l'ha contato come hai persa non me l'ha contato come hai persa con l'importante è quella dai buono quante vittime ti mancano? non lo so ora vedo mi sto connessi tanto vai party non è mancano 3 alunino mancano 4 e che cresce la nuova sera eh però se cresce la nuova sera ah della nostra power della nostra power 2,90 ne ho 25 dei codici Sanson ma volevo metterli in vendita alcuni in modo così da poter potenziare il mio pc no è vero raga io con i soldi che per esempio delle donazioni mi hanno fatti ho sempre detto che fine facevano cioè non è che prima fai bene alcuni li farò dei giveaway grazie mille bella dun clan buon appetito venga lo sentite al gatto no no il mio twitter sta imparzendo sono pieno di persone che mi mandano messaggi privati per chiedermi miacola 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 no non miacola è facile no quindi già tu in 5 parti vado su a milano a fare la presentazione di black ops no raga c'è un conto che si chiama caschetto pazzo no ha vinto tutto no ha vinto tutto è mega è mega è mega auto autofuoco ma è calcio no non è calcio fatto a mano no full out e gestione della folla però questo è un cioè non sbaglio un colpo ecco calibro ristretto buono va bene c'è ricognizione c'è ricognizione che vende che dai pacchetti della suros che è full out e da quattro colpi oh stessa tecnica elimina gli avversari e ottieni la vittoria no non c'è l'invisibilità la merda no zi non si è saltato no non sono saltato perché non stanno qua infatti re confermo stanno dietro stanno sinistro stanno qui da nè dove? oh my goodness this is wrecked put down your fucking weapon oh my goodness this is wrecked this is moon put down sotto c'è il pompa no è su e di pompa ammazza gaschetto quanto lagga? oh andiamo a prendere munizioni verdi prendi quanto lagga? guardate che era caschetto pazzo che laggava anche se Nicola Fashion cioè con tutto il rispetto del mondo però no si eu a fare un shot e un moto vai 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 preso vai andiamo cioè un altro sopra quant'è bella sta tirò una granata tirò una granata sopra adesso one shot hai preso Tekno L'ha arrestato Preso in testa Madre di dio che giocatore No regà Non hai capito quello che ho fatto Non potrete mai capire la cerchina tepica che ho fatto Ho fatto un quick scoop della madonna A uno che si è affacciato Io ero appena arrivato Ma qualcuno è morto? No Proviamo a non morire Stessa tecnica No way Non vengono qua Fermo fermi Cerchiamoli Sono sopra O sotto Io ho tirato una granata sotto Ok sono a sinistra Sono sopra Fermi fermi Mi guardi a sinistra Sto guardando sopra A sinistra Non va bene E io sto mi andando Sono tutti Sono tutti sopra No way Dove è l'oressa Fermo vai Vabbè busciate busciate ora busciate ora Busciate ora No regalo No Perché me ne hai fatto fare Eh perché dovevi busciate Un rego non è venuto Perché quello che ho busciato sopra Quello che ho busciato sopra Quello che ho busciato sopra Mi ha reso one shot Non ho potuto fare niente Mi sai che avevo fatto Io gli avevo tirato la granata fumogena E quelli non vedevano più niente Ragazzi solo voi io Quindi in quel momento dovevamo busciare Eh vabbè dai andiamo andiamo Risolvito C'è il martello Tietro per le speciali Tietro per le pesanti Ma che martello C'è una cosa più pida il martello C'è? Il pisello Ah c'è No way Così se busciano Imparano Che sfigati Lo vedo Ma non è sotto sopra È sotto Uno è sotto Tutti sotto Stanno aspettando là Sì Rega gli tiro l'arco Gli tiro l'arco sotto Ho quello che ho perso Vai Vai Venite verso L'arco Preso uno Oh no 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 Te l'ha attaccata Merdo Ultimo guadito C'è uno è morto Se venirei a rianimarmi Ha rianimato Eh Stai rianimando Ha rianimato No way Andiamo via Andiamo indietro Andiamo indietro Andiamo indietro Andiamo indietro Non rischiare Eh Devo sto facendo Mi hanno fatto Mi hanno fatto Di pompa Stanno pushando In mid Allora In caso Pizzare Non c'è una mano Bisogna una mano Arrivo È Mun Vai via C'è uno sulla mia luce Uno sulla mia luce Anto sta pushando Ok non è tutto un cazzo Ok È sulla È sulla È sulla mia luce È sulla mia luce C'è la bomba Attenti Ok fermo Gli tiro il fumaggio Gli tiro tutto Fermo Vieni qua Vieni qua Vieni 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 scappato Gli tiro tutto Non vedeva un cazzo Con questo coraccio Tutti i nemici Sono stati eliminati Coglioni Camperate col pompa Questo vi deve prendere Questo Camperoni In mezzo Lascia citati Vi deve prendere Lo so Dopo lo cambio Vai vai a sinistra Andate Non so che fare Hanno forse Non so mai Io mi intertengo qua a sinistra È il massimo attivo Questo vero però Allora sì uno qua sotto Con l'invisibilità Sono qua Sono qua Sì guarda a destra Tu Aspetto che arrivi No per tanto Tanto ora le vanno a prendere Sì Ecco le munizioni pesanti Ferito senza scudo Sta scappando indietro Ragazzi io le pesanti Arrivo Ma shottato Vabbè Non commento No me l'ha attaccata Che ne è vero No non ti l'ha attaccata Mi vuole pesanti Il animo Il animo Mori merda Io non l'ho fatto Non c'è manco la In verità Allora sono io Io ho tirato fuori Il lanciazzo E io ho sparato Sul cadavere Infatti ho visto Merde Ma casca e capazzo Di pompa Dove non ho Ce l'hai Ci hanno le super Ci hanno le super Attenzione Ce l'hanno più la super Sì ma attenzione Wow Sì sì Balla su sto cazzo Guarda come scappano I topini I topini Come scappano Uno sta scappando Il nostro spawn Uno è sulle pesanti Arrivo arrivo Il nostro spawn One shot Uno qui Uno qui Non c'ho colpi Uno in fondo Mappa No come si è rianimato Si è rianimato Che lagga Ha laggato Via via Una laggata tremenda No ragazzi Ce la fate C'è uno con questo lare Oh no way No fucking way bro No fucking way Oh my god Oh no Ragazzi Ce n'ho ancora uno Ce n'ho ancora uno Non c'era In chi no In chi no Però per vedere Il combattimento è finito Che bello No ma ragazzi Questo si è rianimato Io non ho manco avuto il tempo Che tipo Mi ha coltellato Non ho dato Quello mi brucia con la pianza E io Sta giù merda Ora ora Troppate ricognizione Quello con la pianza Che mi spammava Da tardi E io Sì Ti sto vero Oh yeah Allagget Oddio 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 Come l'ho droppato Oddio come l'ho droppato io Oddio come l'ho droppato Eh vabbè Eh vabbè Power Tanto 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 fuori legge è inutile Se ti metti Tanto ci sono i quanti Tanto ci sono i quanti C'è però C'è se non è che un tipo Lo droppa Nessun perco No guarda che proprio Tammatica obbligatoria Eh vabbè che tumore sarà Questo qua No non è obbligatorio Per chi non c'ha il trigger finger No Vai droppate Tammatica 320 per ora Mi sa che è impossibile Troppare la Tammatica 320 C'è non ho visto nessuno Quella challenge Vanno magari Troppare la 320 Unica roba Che mi viene da pensare E a 330 Quando hai questo Troppo Sicuramente L'artefatto con la challenge Non si troppa la 320 Cosa? Minimo Minimo 320 L'artefatto Che non si potrà fare Altrimenti Ma non si prende Non si troppa L'artefatto Sarà una quest Palesi Ma non c'è Non si parla Ah via via Cosa via via Eh le prove Amica devo avviare Ah perché sono tornato Giusto Me lo scordavo E rinvenzione Lo devo provare Che schifo C'è la spazio Del Mida Però c'è fuoco automatico Che questa è una bella Casa Un po Poi c'è un mano celata Quindi praticamente C'è sparo sempre Alla testa Gli hanno già messi Gli stop trigger Sul sito della burn Senso Io ce l'ho Sull'altro pad Comunque Guardate il pad Che sto usando Ve lo faccio vedere E ora ingrandisco Lo schermo Che è veramente bello Il pad che mi ha dato La burn Lì a Parigi È bellissimo Ragazzi E guardate Cosa ha dietro Le ali Le ali Reflex Spider Il mio più bello È un just it normale Il mio ovviamente Mezzo rotto Prove dettaglio Al faro si può droppare Tre venti Nooo Finissimo È stupendo Che abbiamo trovato Banana power Rimira Virtuose Power Il rumore Con il buco della festa No non puoi capire Quanto ero suicata Quando mi mandò la foto Con Aliei Non puoi capire Io stavo Per quanto ci ho giocato assieme Anzi era lui che chiedeva a me le cose Che cos'è Sto facendo una cosa Per fuori Grazie Più te Fira da venti minuti Mezz'ora Ciao ciao Grazie Ciao polmonite Sì No ce l'ha bronchite Mi sa Ah ecco Cazzo La polmonite La polmonite Stavo in ospedale Ora Ora lì C'ho l'enjoy Sti qua No fai quella cosa figa che ti ho detto Se no lo faccio io No A banana power Deve essere cenerata power per forza Ok E' questione di Di dignità Eh sono gli analogici Lo so che sono figli Quello della ps3 poi è comodissimo di analogico Che altro il dito rimane attaccato Andiamo Squadra bravo No Ok le challenge Le challenge io le challenge Li vuoi fare te che gli sparico il cieco No no Challenge te io push Ok Sì perché Da sto punto della mappa Prepesco push Nessun Preso vai Nessun Lo sono in tre Qualsione qui Uno C'è uscito E' qua Cuccia E' tipo accucciato Ok no L'altro sarà dentro Vado a prenderla dietro Dov'è sopra Sotto Stoccato Stoccato Lo so solo io Però vabbè dettaglio Mi dico perché Esce nella più due volte Vabbè Perché sono più E' plurale Più zombie Chiamalo E allora sì Allora All'assenza Va let's go Mi fa stessa cosa Stessa cosa Hai visto come L'ho stoccato Madonna Tu si si è Un infarto Però si è morto Vabbè si cazzo Vai a fare la kill Vai a fare la kill Granata Granata No zi che fai Col pompa Via 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 Sta pushando One shot Ragazzi Tutti Pucciando Col pompa Ma ci No Proprio Sotto Guarda Power No Wafi di colpi Fai conto che a me ha dato un colpo di pompa Però sotto Lui ero sopra Lui era sotto Come l'hai animato Sto in fondo Sto in fondo Sto in fondo L'ho preso Io di checo Ok E mi do E lì E lì C'ha il cecchino E sopra e sopra L'hai animato Attento Merda ma da dove mi ha preso E lì E lì E lì E lì Preso Ok Le ha dato un colpo Pauro E ben testato Oh my god Oh my god Mi ha fatto un po' di ciottino Mi ha fatto un po' di ciottino Comunque Comunque Ma non ho pusciato di pompa Lo so Ti ho visto Ti ho visto Quindi vai subito al centro Moon E controlla se non lo pushano Io Li facciamo la stessa cosa Li facciamo la stessa cosa Ma rimani Ma rimani Sull'albero tu Preso Oh wow Questo mi ha fatto una cosa incredibile Gli devi tirare una cerchinata E poi mi devi restare Mi stanno pushando Mi stanno pushando Sì Sì Allora Uno sta dove sono morto io A destra Eccolo Moon What? Sì sì Scusa Questi vogliono una battaglia proprio Scusa Con che ti ha sparato Che devo correre Mi sono arrivati gli hitmarker Con il mappaggio karma No power Io direi di aspettare dietro e c'era in gialli così Tanto dole c'è una pompa No no Aspetta se ti faccio Faccio il pervert Ragazzi io devi andare da sinistra Vai vai Aspettali Recon Aspettali 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 No 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 Recon Stiamoci in due Speriamo pure al corto Non ci credo Che schifo che fa la gente Faffanculo Recon Devi stare indietro però Indietro Prima mi dici di andare avanti Poi vadi indietro No no Che ti ho detto all'inizio della partita Sta indietro Sta indietro Prima li pushavo in middle No dico nel senso ora Tu hai detto vado a fare la cerchinata Io ti ho detto sta un po' più indietro Deve apparire lui Deve apparire lui non te Ok Guarda ora io vado dentro la stanza Così spara a me Non ha sparato Mi ha fatto body shot Mi ha fatto body shot Che tumore Wow Mi ha messo one shot con una cosa Sotto sotto E sopra Ferito Wow Sono one shot due Vado al centro Vado al centro C'ho l'arco Glielo tiro Preso uno Ok L'ultima è dietro di noi Vaffanculo Gli ho fatto un headshot Te l'ho accucciato Challenge One shot Vado a prenderlo Beh Eh sono Sono di animare Preso Ok C'ho l'arco se succede con una cosa C'è un Non l'ho speciale Allora io lo sai Lo sai che io mi posso tenere una A sinistra ci vede un moon Sai che ti dico Recon Andiamo avanti Non rimaniamo là dietro Andiamo da sotto Andiamo avanti Andiamo avanti Raga uno sopra ancora E l'altro Faccio uno dei due campi Va ha tirato l'arco Aiutami Ha tirato l'arco L'ho bloccato Non ho fatto fatto All'isciato Oh L'ultimo Hai preso Si lo prendo Ho c'è radianza Ho c'è radianza Si si Ti sto resti Lì ci sono stati eliminati Si non ce l'ho Non ce l'ho Ok bravi bravi Ci siamo presi la lead Ora ci facciamo Questo round Andiamo tutti a sinistra Tutti Tutti e tre No metto l'invisibilità Vieni con me Poi li attivi Andiamo tutti a sinistra Venite venite Seguitemi Venite venite Andate dietro A sto blocco di metallo Venite Blocco di metallo Venite Veloci Veloci Go Bravi Così si fa cazzo E one shot Su due Una mano Una mano Vai Spara Eh non c'è colpi di cecco Ma ha shottato Ma ha shottato Mondo ma dovevi stare con noi C'è la super Puoi challengeare Cioè Questo è un errore Da giocatore amatoriale Perché tu c'hai la super È inutile fargli il giro da dietro C'è la super Puoi challengeare Che cazzo ti pare Calmo 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 Si ma Non facciamo queste cazzate Dai C'è quasi martelli Ora c'è quasi martelli C'è quasi calmo Come quasi Preso Vaffanculo Più forte E più veloce Che detto Qua sotto di me Io non l'ho preso Preso un altro Intenzione a radianza Bravi Intenzione a radianza Mettetevi sui corpi delle persone Guardate Questo qua Bravi La nomina No un altro dietro di me L'altro 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 Ma fa al culo Merde Ma fa martillato l'arco L'ho schivato Mi ha avuto un culo La mano I guardiani Il combattimento è finito Compa warrior del cazzo I tumori Fuscinano di pompa C'è Boh Lo schifo E lo so Ricamato Che io ero sopra E lì era sotto Dai cazzo Lì era sotto Non c'è manco Pacco di strezzo Ma ha sciuttato diretto Ora dopo ricondizione Troppo la con Mano celate Che cazzo è No Ma perché Questi vari Che cazzo sono Sono tipo È presente che Nello si ideano uno C'erano quelli che Droppare Quelli dei pacchetti E che comprare Quali sono i meglio E quelli che Droppi a 5 Vittoria di fila Scusa No Ma questo è tipo C'è un po' di precisione Sì È agitamentata Per Doppio C'è un po' di precisione Solare Io mi trai quello Ti metti Visto Vero Fai doppia Boh Bonti Sono Fai doppia Corri avanti Bom Lo triti Dai cazzo Rega Iniziamo Easy Easy Le moglie Me ne mancano due Vai una Ti aiutiamo A fare l'altra È ovvio Abbastanza Per ora Domani mancheranno Sei giorni a B3 Che bello Siete così gasati Per B3 Io tantissimo Io devo fare quattro vittorie Per fare le partite Completate E te non lo devi fare Ah voi l'avete già fatto No Già l'ho fatta Che mirini sono sti qua C'hai il milione del mida 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 Non mi piace il milione del mida A me piace troppo Bella partita Ci fai grossi mappi un quel milione Ci tua Pomp a warrior Parli pure Attenzione Ti sparo 6666 Fedex Fedex Menatino Menatino Allora Pomp a tumore Poi Cecchino Buono Pomp a tumore Facciamo la strategia nostra Si mi pusce con la di pompa Io il mido Io non ne mangio Nessuno Eh? Eh vabbè Però ha capito Se una volta arrivano Io ti consigliere di andarci con l'invisibilità Sai perché con l'invisibilità? Perché se arriva uno Tu sai cosa fai? Da bravo stronzo Continui Ah vabbè no ma tu c'hai il pistolero No pistolero Boh Te potresti pure lasciargli addosso Se non vedi nessuno In modo che li sorprendi Però devi fare in modo che non ti riescono a vedere sulla mappa No ma è un milione di cichino Poi se io devo fare una kill e pusho Cioè faccio No ma tu dovresti subito pushare se non vedi nessuno Si ho già Oh favore Se questi pushano troppo Io sto un po' indietro Si Ma c'hanno solo un po' E lo so Però ricacciando delle armi C'hanno delle armi del cazzo Quindi conviene che giocate Ma non giocare Ma non armi del cazzo Distruggili tutti No merdo Ho perso un po' di tempo No shot a mano Po' E' un po' di tempo E' un po' di tempo Ciao a mano Sono sotto Sono sotto raga ma che cazzo stava facendo non lo so io lo penso a vedere di saluto uno challenge e piacciono sta di campare qualche parte un mino questo più di tre e ne ho fatto bollice adesso ma la tua squadra è in testa va 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 push a 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 passata basta basta sono qua sono qua è un emil 2002 milioni sento sono qua e shot l'ho messo mangio no c'è stato cecco ti mira ti mira ti mira lo so lo so ti voglio restare un bigliano un bigliano un bigliano no mamma mia che condivido body shot mi ha fatto e anche dei piedi a roma col cieco vabbè va bene non fa niente ho sbagliato io devo fare la capriola sul cadavere di regolo non l'ho fatta ha sbagliato se noi eravamo due no era a me mi ha facciato di pompa non avevo neanche il coltellino arrivare rientranno io controllo qua vai facci tu facci tu io li faccio qua da solo ce l'ho già chieda subito righe troppo e non c'è nessuno però one shot one shot fresca due per uno vaffanculo se andassimo destra estrema io da solo me la posso cavare la voi andate destra estrema ora io me la posso cavare da si vado io ci vado io tanto tutu mi hai voglio un record che corre velocissimo che mi arriva subito io vi faccio per dentro però ma è tra no così e mai sono a mido sono in mido allora sonido ho fatto body shot ma io mi avevo tenuto in marca che pg hanno cacciatore 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 l'avversaria eliminato c'è la vicenda voglio fatto non ci arrivano ce la fai a destra a tenertela da solo qualcuno c'è la super che non ce l'ho cioè ce l'ho trappon o a destra c'è la fatta da lontano a tenerli si tanto poi arrivare con arrivano qua arrivano qua arrivano qua sono già passati in due tira granate tira granate tirato 30 granate 35 granate hanno tirato sono in tre tre muoviti vai 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 guardiamo ha notato ma non c'è stato ma non c'è stato stanno mirando la luce mamma mia che c'è fino ad ardo ecco il pompa venuto di pompe non con me ragazzi animati e animati che c'è gli orbi la scomparso l'ora di nuovo non c'è più l'orbo pregamo fatto una giocata assurda da piacere dalla quicks coppa d'hard fatto un'esercizio di riempati invisibile è venuta vista adesso come ha sucato male quello finisci lì vabbè tanto la muncia la super davvero ma io non ce l'ho basso sono sempre mid allora non è tornato c'è guardiano a te va vai sono ucciso uno grazie ragazzi grazie grazie l'ultimi durando dove sono arrivato io erano tutti e tre messi benissimo la quindi se andavamo al line 3 è proprio boh non vivevano partito che merda partita parte d'arma non si è contento anche matura raga è un'armatura comunque io non capisco perché la partita di prima ma fatto troppare i guanti solo che io ero uscita da dovete uscire comunque lei non è continuata che hai fatto il vettore a finale ma non si può continuare l'hanno messa poi l'hanno fatta apposta perché se giochi con qualcuno che deve continuare e si continuiamo dai una perfetta perché devo carriari vorrei essere carriamo minchia carriare sono cresciati no no la gente mi scrive in chat power carriera mai qualcuno io con tutto il rispetto mi piace che vorrei che mi carriano a me cioè sarebbe bello questo mondo perché siamo tre bravi e quindi giochiamo tutti e tre bene ma a me piacerebbe che una morte non faccio un cazzo capito sto la faccio proprio il co guardi brutto e vincu uguale si lo so con il migliorato di legamento allora mi do portare medici credit allora se vuoi non farmi vogliamo fare il farà 2 90 di luce macchie dell'impossibile ma sono nuovi di mesota macchie l'impossibile re di aiuto a far aiuto a farla battaglia righi no questi sono forti raga questi c'erano l'emblemino ebbè no uno c'è a cucina impulsi nuovo con cosa riflessione algoritmo c'è l'automato ricerca finata ok questi giocano un botto stronzi colpo su tutti e tre col pompa vero perfetto bella rega tutti e tre col pompa questi con cecchino li arriviamo appunto questi però questi veramente li arriviamo col cecco regale appunto mi metto l'arco non la metto al polo no 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 ti atti quel cazzo di cose con le granate ma c'è le doppie che non date laser c'era 2 90 quanti di 13 10 se vuoi switch amo io metto però quindi se mi trovo un botto bene questo coso no 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 giochiamo così stiamo girando bene è perché non avere un pistolero era di pompa da tre tipo pazzi fa quello che fa quello che hai fatto prima ma se ti vengono addosso scappi e non c'è il tempo che hanno aggiunto ci sono ma fa quello che cazzo di passione può andare sotto che sei più veloce mini davanti a trove di osirite a maggio siete voi l'arma di omni è fortissimo a forti è regalo non potremmo mai battere ma io con l'aveva l'impostio di dire se sì sono in mezzo sono in mezzo la capo c'è lo primo giorno ora mi vado una cipolla ci pusciano dietro da quali a con dietro di me favori sono in shot ragazze non è meglio da me serve una mano preso stai con una mano chiami io lavoro spero e via vai allontanati dove eccola qua e qualcuno guarda che sta fuggendo strass bro e conto che ha mandato di raffi che non avevo vita ma tra fine e lo so perché spara super veloce regone rimane la da solo vado io subito a destra quormunde che c'è il coniglio di biata faccio le stragi usciano 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 pari a sinistra uno ha preso l'altra one shot e one shot l'altra one shot tiragli una cazzo di cosa prima che lo resta one shot non l'ha restato è via viene dalla porta certo ritorna bravo il corpo è volato fino a qui parta niente io l'ho detto se vado a destra è troppo meglio perché c'è il coniglio di già da prendere versione a chilometri che mi hanno bruciato in tre ma c'è tu scappa scappa tipo come un trazzo ci abbiamo davanti usciano a destra il danno ci abbiamo avanti ok fermo 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 ma siamo l'altro ma era meglio ha tirato una cosa non vede un cazzo ok l'ultimo stare stato il comitato non si facciano granata granata di restare ma ma ci ho fatto come per animale ma ora velocissimi ma ok eliminata mondari faranno la stessa cosa quindi tu aspettali e io vado sopra a destra ma raga tanto l'ho tanto l'ho tanto l'ora vengono da destra che hanno capito che quelli e la tattica al centro invece non hanno capito un cazzo va bene io vado sempre a sinistra io la raga in caso sono a sinistra sono a sinistra sono ce n'erano di tutta ore a destra tutto a destra fatto il secondo l'ultimo è qua destra tu sei frocio tu sei davvero una persona molto molto brutta non riesco a prenderlo che hanno messo il pompa allora raga il problema è uno ci sarà un fottutissimo titano a breve quindi ora che dobbiamo giocare questo round io me ne vado a dire con di vengo non arrivo mondo c'è la festa in arte da solo no 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 c'è l'arco c'è il cicchino porco 2 una mid moon si lo so lo so lo so lo so lo so lo so le munizioni pesanti diamo a destra merda vorrei diragli la animale qualcuno doveva aiutarmi a guanccio giuri da merda l'ho dovuto usare l'ho dovuto usare l'ho dovuto usare l'ho dovuto usare vedi se c'è il coso si vedete anche abbiamo pistolero e e ma ce la vede ora raga io non ho fatto una kill vi dico solo ok 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 mo lo cecchino io tipo se io ce l'ho non vieni più a cecchino si è cagato sono tutte a sinistra scappati in via bravo bravo la milanina trastema a destra in fondo a destra a destra non lo trovo le capri alle moni accanto a te aia il cadavere merda raga mandate al faro non mi dente vado a mangiare un secondo e no aspetta se vi deve fare un'altra partita facciamolo ma non mi va daremo il visione è questa me l'ha dato pure a me ora lo sai non è che si è bagato il gioco ora tipo ma è così semplice giocare con paolo invece non è ma boh sole perché era faceva le cose tumorale e andiamo sul faro andiamo sul faro regalo facciamo buon attività pg e a bebo si b10 nick non so come chiamarti è normale oggi hanno fatto il voluto abbassare la testa per non farsi prendere dal cerco arriva a mangiare arrivo subito hanno fatto la black of the friday che mostrava nuke town si ha visto ma sti cavoli di nuke town comunque il gioco già ce l'hanno alcune persone moda lunedì lo venderanno in italia non è di la lunedì ma io ho intenzione di andare mercoledì giovedì a vedere se il mio game stop me lo dai anche io per quelle volte però non l'ho provato e vedere giocare voi veramente no è troppo bello c'è poi il gioco fa schifo non fa niente vedrò comunque non si dopo dopo rifacciamo altre due cose per arrivare al faro non vi preoccupate lo facciamo dopo complimenti regale sembra più facile quello che pensavo non lo so quello venderanno black ops 3 è sì ti beggo la gente che usa le armi schifose siete molto bravi peccato che non era il momento giusto fedex non giocava nella partita di prima vero che era quello della partita di prima che ho rischio pompa d'umore quello che giocava con con cascetto mazzoli andiamo a lutare aspetta mi metto mi metto la classe per correre mettetevi l'equipaggiamento tipo tutto a 320 roba sgrava così è appunto mettetevi tutti a 3 più più alti siete meglio ma che poi non capisco che arriva la gente col pompa amiciato ma c'è da tipo 30 chilometri c'è non capiscono c'è manco poco stretto non è nata io sto premendo start andiamo andiamo paura e ultimo no per quanto cambia le armi tra le 15 ora io non mi ricordo che al mio mercato però riparate ma non ha aperto nessuna nuova zona non la donna che merda cerco dopo perché ora mi riempia l'ultimo qua aperto già che cosa è già che cos'è già che cos'è già che ha regalo troppato la stella di mare affinata ma senza la stella di mario affinata di mare affinata ma senza danno io non ho troppato cos'è già che tanto cos'è l'emblema bello l'emblema solo stella di mare affinata l'emblema l'emblema è troppato cazzo c'è c'era la roba della cosa ma data pistola come torsione di un rato rimane attivo a me 3 15 io la lanterna dell'io bomba la potenzio secondo me forte sono molto forte io troppato la spina ragione ancora a 3 10 si cazzo c'è il culo rotto io vi saluto streaming grazie per essere stati con me il mio primo faro e ci vediamo dopo per l'altro streaming ora vado a cena ciao ciao guarda c'è un secondo ragazzi un secondo